scolastico dei loro figli. Non ci possiamo permettere il lusso di sprecare neppure uno dei docenti specializzati. Questi devono essere immessi tutti in ruolo, nessuno escluso. Il nostro Paese si avvia alla rinascita, e me lo auguro fortemente, al termine di un periodo difficile a causa della pandemia. La scuola è uno dei pilastri della società sul quale dobbiamo poggiare il futuro dell'Italia. È una scuola di qualità, non può partire senza affrontare una battaglia di civiltà tesa con tutte le forze e le risorse necessarie alla tutela degli studenti con disabilità. E concludo, Presidente, in ogni ambito e principalmente nella scuola, che rappresenta il nostro futuro, nessuno deve rimanere indietro. Grazie. Grazie, Presidente. Dalla chiusura del 7 marzo in poi per l'emergenza sanitaria, il caos ha regnato sovrano sulla scuola italiana, caos sugli esami di Stato, caos sulla ripresa a settembre, caos sulla didattica a distanza, dove nonostante l'impegno e il sacrificio di docenti e genitori, purtroppo l'Istat, non la Lega, ci consegna un quadro nero sul divario digitale. Il 33% dei nostri alunni non ha un computer, non ha connessione, quindi per loro nessuna didattica a distanza, nessun diritto allo studio, nessun ascensore sociale. Sono stati abbandonati anche i candidati privatisti agli esami di maturità, per i quali al momento si ipotizza che possano svolgere gli esami a settembre e non a giugno come tutti gli altri, impedendo dunque loro in tal modo di poter scegliere la propria facoltà universitaria o di poter fare un concorso, poiché fuori tempo massimo. Le chiedo dunque, Ministro, per il tramite del Presidente, quali misure intenda adottare, ma misure concrete, non interviste, non annunci televisivi, sul divario digitale, sugli esami di maturità e sulle modalità di rientro a scuola a settembre per i nostri ragazzi. La Ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolino, facoltà di rispondere. Prego, Ministro. Grazie, Presidente. Onorevole Sasso, il suo quesito mi consente di fornirle elementi che dimostrano, come in questi pochi mesi dal mio insediamento al Ministero dell'Istruzione, l'attività dell'amministrazione ministeriale in una situazione difficilissima per il nostro Paese sia stata votata integralmente a garantire l'effettività del diritto allo studio di tutti i nostri studenti. Con riferimento al divario digitale, voglio ricordare che da subito abbiamo dispiegato ogni misura per rispondere a questo gap tra la popolazione studentesca e strumenti digitali.